Ed ecco la coppia azzurra, Sofia Sforza e Francesco Fioretti. 16 anni per Sofia, 18 Francesco. Loro hanno tenuto una quarta posizione nella preliminary. Sono in coppia da tre stagioni e sono allenati da Walter Rizzo. Per loro questa è la terza partecipazione ai mondiali junior. Grande soddisfazione comunque per l'Italia, insomma, essere qui al mondiale con questa coppia. Abbiamo bisogno di coppie anche nuove, no? Quindi bisogna iniziare a crearle. Eh certo, sì. 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 Insomma, anche perché soprattutto nelle coppie per acquisire l'affiatamento necessario servono tanti anni, tanto tempo, nella danza in particolar modo e quindi loro direi che hanno tutte le carte in regola per riuscire ad arrivare a ottimi risultati. Sono già la terza stagione insieme, Sofia sforza, lo ricordiamo, di San Giovanni Bianco, Francesco Fioretti di Massa di Somma, napoletano, vive a Milano, ma tifoso della Juventus. Walter diceva, cosa strana per questo mio allievo, e allora sono veramente una bella coppia che è stata proprio messa insieme da Walter Rizzo quando lui è dovuto cambiare partner ed è stata fatta questa scelta. Dopo dieci giorni già hanno partecipato alla prima gara e hanno vinto, quindi era una sfida da vincere. Ed eccolo il punteggio, 51-06, la felicità ovviamente di questa coppia. Era un obiettivo importante, c'è il loro allenatore appunto lì a fianco. Beh, penso sia massima soddisfazione questa. Sì, assolutamente, per loro lo vedi dalle loro facce, dalle loro espressioni. Sanno di avere pattinato bene, un bel punteggio, cosa possono volere di più. Eh sì, hanno preso appena.